Le guance sono finite, andate in pace. Amen. Vi ricordate, io mi ricordo quando ero piccolino, andavo nella chiesa cattolica, poi il prete all'ultimo diceva La messa è finita, andate in pace. Io ho voluto invece coniare queste parole Le guance sono finite, andate in pace. Che voglio dire con questo? Voglio dire che alcuni si aspettano vita naturale durante che noi camminiamo sempre girando guance. Qualcuno ti colpisce a destra e tu devi girare la guancia. Qualcuno ti colpisce a sinistra e tu devi girare la guancia. O magari sono sempre le stesse persone. Perché magari ci può essere anche pazienza in quelle persone che tu sono nuovi Quindi a destra e a sinistra ti colpisce questo, ti colpisce quella, tu giri, ti giri a destra e porgi la tua guancia. Ma sempre sei la stessa persona, con lo stesso modus operandi, stessa persona che inizia a colpirti E pretende perché tu sei cristiano che devi porgi l'altra guancia, beh gli puoi dire, sai cosa? Le guance ora sono finite. Vai in pace. Ti mando con amore a quel paese. Quale paese? Il paese delle meraviglie. Di isolante. Non so dove tu capisci per questa mia frase a quel paese. E per cui, cari, è importante perché noi siamo cristiani. Non è che siamo stupidi. Non è che il fatto che siamo cristiani, alcuni si possono permettere sempre di pretendere che noi giriamo l'altra guancia. Sì, è probabile che girerò l'altra guancia, ma per salutarti, devi sparire dalla mia vita. Se tu pretendi che io devo girarti l'altra guancia, tu devi farmi le solite ancherie. Anche no. Anche no. Anche no. Le guance sono finite. Andate in pace.